Siamo qua alla Maker Fade di Roma con Giovanni che ci presenta il suo progetto. Ok, ciao, questo è Erwi, è un piccolo robot per SLAM basato sul ROS e utilizzo le schede nucleo della ST per gestire in questo momento ad esempio LED. Sto mantenendo sempre su questo progetto una variante della IMU che attualmente è presente utilizzando tecnologia ST, sarà probabilmente un prodotto commerciale. Quindi che schede ST utilizzi precisamente? Ok, allora, al momento ci è installata una ST nucleo F303K8, verrà montata successivamente sul pianale superiore una nucleo 476, sempre il formato Arduino nano compatibile, con dei sensori VL53L03X che sono presenti dei Time of Flight della ST. Grazie mille per l'intervista, ti auguro un in bocca al lupo per la continuazione della fiera e buona serata.